Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale dell'arte dedicato all'uscita del nuovo numero della rivista Artein. E come di consueto abbiamo il piacere di parlarne con il direttore artistico Luca Tommasi, benvenuto. Grazie Francesca. Dopo tante copertine valide e interessanti dedicate in gran parte ai protagonisti dell'attuale sistema dell'arte, questo numero è dedicato a un artista maledetto per eccellenza e pop, Mario Schifano, a cui appunto è dedicata la copertina e il tuo articolo cover story. Eh sì, e tra l'altro fatemi dire che credo che sia la più bella copertina di Artein mai realizzata, perché abbiamo recuperato quest'opera che era in mostra alle gallerie d'Italia a Napoli, nella grande mostra antologica che è stata dedicata a Mario Schifano, e mettere in copertina questo doppio schermo di una Coca-Cola, quindi di una teleemulsionata, ci ha veramente resi felicissimi. Anche perché, insomma, amiamo tutti Mario Schifano, ne parliamo molto anche su queste frequenze. È un artista che, come tu hai detto, maledetto, geniale, straordinario, un artista che ha veramente anche rivoluzionato il modo di essere artista in Italia, perché lui già da giovane condizionava i galleristi, stracciava i contratti con gallerie internazionali, era libero, Goffredo Parise lo definì un puma, ed era un artista che non si lasciava ingabbiare. Così facendo ha percorso la seconda metà del Novecento, regalandoci delle opere meravigliose, ed è stata molto bella la mostra che si è tenuta alle gallerie d'Italia a Napoli, perché ci ha dato uno spaccato straordinario dagli anni Sessanta in poi. Qualcuno può dire, ma come mai Artein non aveva ancora dedicato un servizio, una copertina a Mario Schifano? Beh, perché quando si tocca a Mario Schifano si tocca comunque sempre un artista molto, fammi dire, un po' problematico, perché bisogna chiedere autorizzazioni, pagare diritti sulle fotografie. Quindi aspettavamo un grande evento. Il grande evento è arrivato e noi credo che possiamo dire che abbiamo regalato un bellissimo numero ai nostri collezionisti. Vedi l'errore, Freudiano. Volevo dire abbonati, ma questa è una copertina da collezione. Io mi auguro che i nostri abbonati siano collezionisti e collezionino i nostri numeri, perché questa è veramente una copertina da collezione. Lo è, lo è. E in questo numero si parla di un altro artista ribelle, che adesso è in mostra a Berlino, che scandalizzò la borghesia, George Groz. Groz è stato un artista meraviglioso e questa mostra in patria lo ha totalmente riabilitato. Perché dico così? Beh, perché Groz dovette fuggire dalla Germania nazista. Groz fu un grande fustigatore dei costumi e lo fu anche di quella borghesia che poi fu quella che sponsorizzò o in qualche maniera fece andare al potere Hitler. Quindi lui dovette riparare negli Stati Uniti e poi nell'ultima parte della sua vita ritornò in Germania, ma forse non con quelle fortune che si sarebbe potuto aspettare. Una grande mostra, un grande artista che ha segnato una delle pagine più importanti dell'arte degli anni 10, 20 e 30 di questo gruppo di nuova oggettività di cui lui è stato protagonista. E io ringrazio sempre i nostri corrispondenti perché noi ormai abbiamo dei corrispondenti fissi a Los Angeles, abbiamo dei corrispondenti fissi a Berlino. Quindi abbiamo delle persone che ci raccontano le mostre dal vivo, quindi i nostri non sono articoli fatti al computer, sui comunicati stampa, ma sono articoli di mostre visitate e quindi siamo fierissimi di avere sempre la contribuzione dalla Germania. E un altro articolo ci aprirà le porte della National Gallery di Londra per raccontarci la magica storia di Paola Rego. E rimanendo sempre a Londra hai dedicato poi un approfondimento all'artista Ellen Birmingham della quale appunto hai visitato lo studio proprio nel Regno Unito. Eh, lì londinese sono io. Non solo, non solo perché non è mio l'articolo di Paola Rego ma è mio l'articolo Studio Visit che ho iniziato dicendo la verità. Io sono andato nello studio di Ellen Birmingham a Ferragosto per sfuggire alla canicola del nostro paese e poi per fare un po' lo spiritoso mi piaceva lavorare quando tutti erano in vacanza. Quindi mi sono caricato di moglie e figlio e ho detto andiamo a Londra e tutti pensavano in bellissime passeggiate in Hyde Park, invece no, assolutamente in studio visita, visitare mostre. E quindi ho conosciuto quest'artista meravigliosa, veramente una delle promesse della giovane arte inglese internazionale, giovane ma non giovanissimo, un'artista nata negli anni Ottanta che però si sta affermando adesso con delle opere che stanno facendo strabuzzare gli occhi a chi ci si trova di fronte. È stata una visita bellissima, la racconto in Studio Visit e spero che sia apprezzata dai nostri lettori. E poi come sempre ci sono le grandi interviste, una in particolare significativa quella di Marzia Spatafora che ci farà conoscere meglio Bruno Corà, presidente della Fondazione Burri, nonché autore di oltre 400 saggi critici di arte contemporanea. La nostra Marzia ci sta viziando sempre di più con interviste sempre più appassionate. Infatti, se vogliamo dire, ci sono dei must nella nostra rivista che è la cover story, che è la grande intervista di Marzia e dopo aver intervistato dei direttori di museo come la direttrice del Pompidou Mezzo oppure il responsabile mostra di Palazzo Reale oppure Maraniello, responsabile del Polo Culturale di Milano, abbiamo anche inaugurato questa stagione dei grandi critici d'arte. Ne stiamo intervistando uno importantissimo per il numero 17 che è in preparazione e qua Bruno Corà, cosa devo dirti? Uno degli artisti... Beh, è un artista, è un artista. Un grande curatore è per forza un artista, perché è uno che deve avere una sensibilità spiccata e quindi è qualcuno che deve saper parlare il linguaggio stesso degli artisti. Bruno Corà è a capo di un'istituzione come la Fondazione Burri. Chapeau, cosa vuoi dire? Cioè, se uno arriva a quei livelli vuol dire che nella sua vita ne ha messe assieme di mostre, di libri, di curatele. Poi sono quelle figure... Vedi, oggi c'è il termine curatore, ma il curatore è un gradino più basso del critico d'arte. Una volta c'erano i critici d'arte. Oggi ci sono meno critici d'arte, ci sono più curatori. Il curatore è uno che allestisce, che ha delle competenze indubbiamente. Il critico d'arte è uno che si è formato sulla critica, quindi è molto più severo e partorisce dei giudizi molto più approfonditi. Lui è un critico d'arte, quindi è bello poter registrare le parole di personaggi come lui. E poi Artein tocca tantissimi argomenti, come sempre ricchissimo, di contributi e contenuti. Ad esempio, Stefano Sbarbaro ci introdurrà nel mondo dei pittori della realtà del XX secolo. si passa poi dai grandi dell'Ottocento a Adam e Nirst a Giorgio Morandi. C'è qualche altro articolo? Allora, diciamo che stiamo cercando... L'abbiamo fatto anche in passato, avevamo un articolo fisso sulla pittura antica. Poi adesso vogliamo un pochino più mixare gli interessi, quindi parlare anche di Ottocento, parlare magari di pittura antica nel numero di lavorazioni, ci sarà una sorpresa. parlare anche di quei movimenti come il movimento di Schiltian, dei fratelli Bueno, che all'inizio degli anni 50, fino agli anni 40, hanno riportato la grande pittura sulla scena. D'altra parte era un periodo in cui si ritornava un po' a rivalutare anche la grande pittura. Quindi sì, è vero, ci sono sempre articoli interessanti. Abbiamo intervistato Davide Benati, grande artista italiano. E poi non dimentichiamoci le rubriche, perché ve ne segnalo una in particolare, che è quella sull'intelligenza artificiale. È un tema che stiamo affrontando, continueremo ad affrontare, perché è un tema al centro del dibattito, anche nell'arte. Quindi può oggi l'intelligenza artificiale influire le scelte degli artisti, può sostituire gli artisti. Diamo un anticipo in una bella rubrica curata da Vittoria Macellaro, che è una giovane curatrice, che tra l'altro ha curato anche un evento a Monza, al teatrino della Villa Reale, proprio sull'intelligenza artificiale. E mi auguro che sia un tema che interessi i nostri lettori. E poi c'è la sezione anche Art Review, per chi volesse sapere, insomma, un po' tutte le mostre in corso. Art Review è una guida turistica. È una guida turistica. Guarda, sto dicendo, ma non vorrei creare problemi. Forse dovremmo in futuro, chissà, creare un sistema per poterla addirittura staccare e portarsela in giro. Perché stiamo facendo un lavoro, credo bellissimo, magari non è bello che uno se lo dica addosso, però andiamo all'estero, stiamo in Italia, e soprattutto riusciamo a fare una programmazione tale che quando esce la rivista, queste mostre magari sono iniziate da poco, quindi non c'è il rischio di dire ops, l'ho ricevuta in ritardo, ops, l'ho comprata in ritardo, e quindi? Quindi ci scegliamo mostre che perlomeno siano visibili ancora un mese o due mesi dopo l'uscita della rivista, in modo che possiate veramente godere dei nostri suggerimenti per vedere queste mostre. Quindi come avete capito un numero ricchissimo di contenuti assolutamente da non perdere con questa copertina da collezione, quindi non mi resta che invitarvi alla lettura di questo nuovo numero di Artein che vi ricordo potete trovare in edicola o prenotare anche comodamente dal sito sia in versione cartacea che in abbonamento. Noi vi consigliamo sempre questa seconda opzione per riceverlo appunto direttamente e comodamente a casa. Io ringrazio Luca Tommasi per essere stato con noi. Grazie a te Francesca per l'ospitalità. E ci vediamo alla prossima edizione del nostro telegiornale. Grazie. 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 Grazie.